Eeeeeeey Vuole sapere da voi se siete pronti oggi per un funky good time Sapete cosa vuol dire? Volete sapere se siete pronti a divertirti? Eeeeeeey Siete pronti a divertirti? Sì o no? Eeeeeeey Da fare quello sentire allora Mr. James Brown aveva un modo molto interessante di chiederti Se volevate divertirti E faceva così E la gente rispondeva E la gente rispondeva Siete preparati? Avete studiato oggi? E' bravo Espatete E la gente rispondeva идare I gotta have a find a good time I gotta get high You know I gotta get high You know I gotta get high I'm gonna dance so high Ooh I got a ranger again I gotta get high I got a ranger going man She's the only gator I got a ranger going man She's the only gator I been slept in the kitchen I didn't want to hump the pay Grazie a tutti 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 Grazie a tutti